Sale al 41% la popolazione vaccinata nella città di Agropoli. Sono 12.231 le dosi somministrate al 23 maggio, mentre i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose sono 8.859. Ieri il centro vaccinale Covid-19 città di Agropoli è rimasto chiuso per mancanza di vaccini. Anche presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania c'è carenza di dosi. Infatti nella giornata di oggi si vaccineranno soltanto i pazienti fragili, gli over 70 e le persone con disabilità. È vergognoso fare due ore di fila e sentirsi dire sono finiti i vaccini e il commento di una cittadina di Agropoli che nei giorni scorsi, dopo una lunga attesa, non ha potuto fare la sua vaccinazione. Una situazione che sta creando non pochi disagi anche per i tanti over 40 che non vogliono sottoporsi alla vaccinazione con Johnson & Johnson. Da Palazzo di Città però sottolineano che oggi sono riprese le somministrazioni ma sarà disponibile il vaccino Johnson, mentre per i richiami i vaccini Pfizer sono disponibili ma da giovedì in poi.